Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi parleremo di poligoni circoscritti a una circonferenza. Nel caso che vedete abbiamo un triangolo circoscritto a una circonferenza. Ciò vuol dire che possiamo disegnare una circonferenza interna al triangolo in modo che questa sia tangente ad ogni lato del triangolo. La circonferenza disegnata è tangente in C, in B e in D e vi ricordo per la proprietà che il raggio è sempre perpendicolare al punto di tangenza. Ricordo che qualsiasi triangolo è circoscrivibile a una circonferenza in quanto qualsiasi triangolo ha il suo incentro che è il centro della circonferenza in scritta. Infatti, per trovare l'incentro, noi tracciamo le bisettrici degli angoli interni. In ogni triangolo, le bisettrici degli angoli interni, come vedete, si incontrano in un punto detto in centro del triangolo. Se questo accade per ogni triangolo, qualsiasi esso sia, non accade però con i quadrilateri. Non tutti i quadrilateri sono circoscrivibili a una circonferenza. In questo quadrilatero ho disegnato le bisettrici. Questa linea è la bisettrice di questo angolo interno in E. Questa linea è la bisettrice dell'angolo in D. Questa linea è la bisettrice dell'angolo in G. Questa linea è la bisettrice dell'angolo in F. Come vedete, queste quattro bisettrici non si incontrano in un unico punto. Quindi questo quadrilatero non è circoscrivibile a una circonferenza. Se io sposto in un vertice e cerco di far sì che le bisettrici degli angoli si incontrino in un punto, ecco che posso disegnare la circonferenza in scritta. Allora noto che questa circonferenza è tangente ai lati. Se io sposto però il vertice e di nuovo le bisettrici perdono il punto d'incontro, vediamo che il quadrilatero non è più circoscritto alla circonferenza. I quadrilateri circoscritti, qualunque essi siano, godono sempre della proprietà che abbiamo visto. Le bisettrici degli angoli interni si incontrano in un unico punto. I raggi della circonferenza sono perpendicolari ai lati. Se io conduco un raggio, scelgo il raggio che da E arriva al punto di tangenza, ovviamente c'è un angolo retto col lato tangente. Quindi, riassumendo, tutti i triangoli sono circoscrivibili a una circonferenza. Non tutti gli altri poligoni da 4, 5 o più lati sono circoscrivibili a una circonferenza. Lo sono soltanto se le bisettrici degli angoli interni si incontrano in un punto detto in centro, che è il centro della circonferenza inscritta e tangente internamente ai lati del poligono. I raggi di questa circonferenza sono sempre perpendicolari al lato e rispettivamente nel punto di tangenza. Se io sposto i punti di questi punti di tangenza e vario il mio pentagono, ad esempio, ottenendo diversi pentagoni nello spazio, come potete vedere questa proprietà rimane invariata. Ricordo, su questa immagine, infine, la proprietà dei segmenti di tangenza, ossia se da un punto esterno alla circonferenza traccio i due segmenti di tangenza, Zm e Zn, questi due segmenti sono congruenti. La stessa cosa l'abbiamo per il punto V, quindi abbiamo due segmenti di tangenza, Wm e Wl, che sono congruenti, due segmenti di tangenza da C1, che vanno ad L, C1, K, e questi due segmenti sono congruenti, e via dicendo. Grazie dell'attenzione, spero di essere stato d'aiuto, e alla prossima video-lezione. Per tornare alla playlist e vedere altri video sull'argomento, puoi cliccare qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così avete tutte le novità sempre a portata di mano. Grazie ragazzi, buon proseguimento.